Belli e impossibili sono i commenti che impazzano sul web a commento dei temi d'italiano con i quali si è aperta la sessione 2013 degli esami di stato anche quest'anno non più plichi ma tracce telematiche con il codice trasmesso dal ministero sui volti degli studenti tanta tensione le tracce tutto sommato hanno trovato il riscontro dei candidati molti hanno puntato sul brano di claudio magris tratto dall'infinito viaggiare per l'analisi del testo altre tracce quella generale che riguarda la vita non solo come competizione ma anche trionfo di cooperazione e creatività quello letterario con il quale si chiedeva al candidato di affrontare la relazione individuo società di massa attraverso testi di autori tra i quali pasolini canetti e montale il tema storico ha affrontato l'argomento dei cosiddetti brics brasile russia india cina e sud africa tutti i paesi caratterizzati da una forte espansione economica l'articolo storico politico ha riguardato i più eclatanti delitti politici del novecento compreso quello di aldo moro il tema scientifico è stato sulla ricerca sul cervello insomma un ventaglio di proposte sulle quali i candidati hanno potuto spaziare il più gettonato è sembrato quello sul brano di claudio magris prove articolate affascinanti che sicuramente hanno dato la possibilità degli studenti di scrivere e dopo uno scoraggiamento iniziale relativo ecco la riflessione su un autore che difficilmente viene studiato nei percorsi ecco quinquennali e la possibilità comunque di una riflessione ha dato ecco l'idea di un approccio positivo anche nei riguardi del del testo di magris che poi era ecco il progetto di una riflessione più larga e più vasta sull'idea del viaggio e soprattutto della possibilità di vivere il limite in termini di risorsa di possibilità come si sono presentati stamane ragazzi ragazzi ovviamente erano molto ansiosi agitati ma hanno superato benissimo lo stress iniziale stamattina prima prova della maturità quella di italiano come è andata l'apertura dei plichi la modalità di invio delle tracce telematiche avevamo avuto modo di sperimentarla lo scorso anno scolastico abbiamo seguito il protocollo che peraltro è stato diramato ci sono stati incontri di formazione numerose circolari e note esplicative è andato tutto bene nei tempi previsti sicuramente c'era l'ansia che qualcosa potesse andare storto e soprattutto la voglia di garantire la massima serenità ai ragazzi una componente dei quali ha assistito anche alle operazioni necessarie per avere in mano le tracce d'esame tu chi attendi la mia ragazza com'era stamane era ansiosa preoccupata abbastanza abbastanza ansiosa e la notte non ha dormito sto aspettando mio nipote che ieri sera molto tranquillo devo dire sentivo abbastanza abbastanza sicuro insomma che è una cosa importante il problema invece era la madre più nervosa di un gatto nervoso lei anche in attesa di chi di mio nipote di mio nipote sì siamo qui ad attendere questo momento assolutamente emozionante per loro per i bambini per le famiglie un po' coinvolge tutti quindi l'esame non è solo loro ma anche il nostro stanotte il ragazzo ha dormito ha passato la notte tranquilla o no? assolutamente no il te la tipica che la famosa canzone dell'Oventitti continua a fare successo la notte prima degli esami non si dorme non si dorme si incoraggia si ci si emoziona siamo qui grazie a tutti 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 Grazie a tutti.